Trattore ribaltato alle prime ore del giorno di giovedì a Prada, lungo via Podestà, dopo un incidente avvenuto con una Mercedes. La dinamica alla base dello scontro è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale della Romagna Faintina. Il trattore, guidato da un uomo di 70 anni, stava procedendo lungo via Podestà quando, da una traversa, è arrivata la Mercedes. Dopo l'impatto, il mezzo agricolo si è ribaltato sul fianco e il suo conducente è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. Per aiutarlo ad uscire dal mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco. Insieme a loro, gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza, l'auto con il medico a bordo e l'elimedica, decollata da Bologna. Il settantenne, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato con il codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesè. Non ha riportato invece conseguenze nell'incidente il ragazzo alla guida della Mercedes.